Il presupposto del 2016 sta di accordo con le norme di accordo tra il governo di Aruba e l'Ulanda e coincidemente, ora l'Ulanda acaba di approvare per il governo di Aruba per il submercato di capital per fia non meno di 100 milioni di dollari per balanzare il presupposto. Il governo di maggior simpatia performa con il departamento di percura per l'entrata e il governo funziona l'ultimo anno per aumentare l'entrata e riduzire il gasto. Il ministro è incaricato con il manejo finanziario per lamentare il futuro di enfocare l'entrata e niente subraia e che con il anno passato, il governo gasta 30 milioni di florin meno di lo quale nel mese ha presupposto. E questa parte di realizzazione con la quarta forma è il deficit, ma se noi gasta lo che vogliono presuppostare, in maniera che ora che noi realizziamo entrare 100% in euro del presupposto, e se noi gasta 100% in euro del presupposto, e ora il deficit è da 40-50 milioni di euro più alto. Anche ora il nostro lavava più contro la norma di 3.7, e ora come abbiamo visto, il nostro realizzazione 100% di entrare nel presupposto, però il nostro mantenere il gasto non è più alto che non è per imprimire il presupposto, il deficit è cae più piccolo, e è anche insatisfezione. Il cambiamento che ha fatto nel Departamento di Imposto, è una marana paga di imposto arriva a Ganassi. Anche, il voto è mandato a Ganassi, e dopo 2-3 anni si è contestato e ha votato a appellare, e che la tengo 2 anni, e dopo 5 anni di tempo è placata dentro del governo. Ora ha cambiato la procedura, in cui il voto è pagato a mezz'ora, ha fatto un anno a Volter. Il cambiamento di tecnica di imposto di imposto, che fa a 3.9, e la compagnoti, e le contribuenti, e messe ora che ha in effetto, e sa qui con le sue ganassi, se non ha raggi, e messe la calcolazione di imposto di imposto, e le ha oltre 3.9, e questo è pagato nel stesso momento, il sistema continua in 10 anni, e la persona, e le 3.9, e la 3.9, di una maniera strutturale per il governo, per l'anno, è parte di un belastino che mi stavano pagare l'anno anteriore, per i due, è di tre secondi che la belastino scuola è determinata, la compagnia non si guarda un anslag, e per i tre, è di tre secondi che ha meno processamento nel belastino di investimento, ma ora qui, di 2.14 per l'alante, ora il dipartimento consente di concentrare la superficie, il controllo di quello che aveva, nel caso di tracciare la calculezione di quante mesi paga, eccetera, ma ora qui, di 2.14 per l'alante, ora qui si guarda il stampo che c'è un belastino, e per i tre, non ho capito, ora è qualificato come un alcool incidentale. Il 31 di mei, 2005, è stato durato, come si è fatto, come si è fatto, come si è fatto. L'altro anno, 2006, nel 2 mesi poco, il ultimo 70, piccolo anno, non si è nel sistema antico, entrante il 25 december, con il 24 sul belastino, il sistema cambia, 70 anni per l'alante, da fine da vantare. Pagano a chi non ha sapere a nessuna sorta di medie del presupposto di accordo che è manatario, e da confinanza a chi va sopra notte nel quente che si rinforzano un petrolero, un mese del presupposto di presentare e approvando al Parlamento. E la riapertura, la riapertura, la riapertura, la riapertura, la riapertura, quel che è un effetto positivo, la riapertura, per il GDP, per l'economia, per l'entrata di governo, finalmente, per i miei presupposti, e se non la riapertura, quel che è la riapertura, la riapertura, naturalmente si rinforzano meno, per la riapertura. Perchè la nostra parola, è ora con il CFD, la nostra parola è la parola, è il Parlamento approva, è il presupposto, è il presupposto della mia figura, per l'economia, per l'economia, nel ultimo, a fine di mei, la nostra sinta rinforzano a evaluare che il status di raffineria, se veramente è il lavoro di raffinare di nuovo, è il lavoro di esmantellare, e ora noi abbiamo il scenario di Banco Centrale, noi abbiamo il risultato, e ora è il presupposto. E nel stesso momento, noi abbiamo il rapporto, il primo quartale, l'economia, e l'economia, per l'economia, e ora è il primo quartale, l'economia, l'economia, per l'economia, la nostra sinta rinforzano, è il presupposto, nel senso di ajustare, per l'economia, per l'economia. Odessa Romina. Amita Patrick Pascal, per ATV, Canal G5. L'economia, l'economia, ancora non ha fatto una decisione finale, con la soluzione, e l'assunto di imposto, non è il plato, e l'economia, non è la tariffa di diesel e di gasolino, ma il ministro, con forma, per tenere a conto, che sta tra l'anno, del trasporto pubblico.